Radio Cusano TV Italia Ben ritrovati a Diano Romero, Radio Cusano TV Italia Ben ritrovati a Diano Romero, Radio Cusano TV Italia Ben ritrovati a Diano Romero, Radio Cusano TV Italia Ben ritrovati a Diano Romero, Radio Cusano TV Italia Ben post sui vostri canali, questo per far capire come tutti i giorni voi rischiate la vostra salute per portare nelle case di tutti gli italiani le informazioni su quanto accade in Italia, è così? Beh sì, intanto grazie dell'ospitalità, noi siamo sempre dietro la telecamera, siamo nell'ombra ed è molto difficile che veniamo riconosciuti come figura attiva nel mondo dell'informazione noi rischiamo la vita adesso magari di più perché c'è questa emergenza coronavirus io adesso sono in un parcheggio fuori dall'ospedale di Rimini e stiamo effettuando un servizio, non ho indossato la mascherina per il collegamento altrimenti le mascherine e guanti che porto le indossiamo tranquillamente anzi siamo obbligati a indossarli rischiamo anche, sì in questo caso la vita come è successo al nostro collega Paolo che è stato appunto contagiato dal Covid-19 ed è morto lasciando una famiglia anzi c'è stato un collega in queste ore che sta avviando una raccolta fondi per lui però li rischiamo anche normalmente in tempi tra virgolette tranquilli quando magari seguiamo un politico, quando magari andiamo a fare informazione oppure facciamo dei report, dei reportage quando veniamo aggrediti scusa se ti interrompo ma in questo momento siamo riusciti a recuperare la foto di Paolo Micai e l'articolo che avete redatto per ricordarlo quelli della truppa è un articolo che poi è girato molto tra voi colleghi appunto perché è molto sentita sia la perdita di Paolo Micai ma ancora di più le difficoltà che ci sono soprattutto in questi giorni tu ricordavi bene ogni giorno in realtà voi rischiate andando a fare interviste a politici a persone magari sensibili però in questa occasione, in queste settimane di epidemia certo è diventato tutto un po' più difficile ma vedi noi siamo obbligati ad esempio a fare delle interviste utilizzando un boom ovvero un'asta dove è attaccata un microfono per evitare di avvicinarci troppo alla persona intervistata però ad esempio quando facciamo le interviste ai politici sì, usiamo il boom però nessuno vede mai che noi dietro siamo accalcati perché magari tra sicurezza verso il politico spazi dove dobbiamo fare l'intervista o tanti altri fattori tra me ad esempio e un collega ci possono essere 10 cm e quindi quello che è un dispositivo di sicurezza almeno per noi decade ecco c'è stato anche, ci tengo a sottolineare un caso abbastanza grave che ha riportato l'ASA appunto di due colleghi che sono risultati positivi al Covid che avevano lavorato appunto per l'emittente nazionale e l'emittente nazionale non ha avvisato nessuno tra parentesi erano stati nella sala stampa del Parlamento e di conseguenza insomma c'era un rischio concreto anche di contagio con altri colleghi eppure si era taciuto siamo stati noi dell'ASA che abbiamo sollevato questo problema e abbiamo invitato anche ad uno sciopero per questo perché noi insomma siamo operatori siamo elementi dell'informazione non siamo carne da macello è cambiato qualcosa perché in realtà abbiamo visto anche una delle ultime conferenze del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fatta attraverso chiedendo ai giornalisti di fare domande attraverso i dispositivi mobili quindi un pochino è cambiato sono prese delle misure a riguardo? sta cambiando adesso perché c'è un'emergenza sanitaria noi dell'ASA facciamo di tutto affinché queste migliorie proseguano anche dopo quando speriamo a breve la situazione si risolverà noi ci auguriamo non solo di essere trattati meglio e essere diciamo tutelati ma quello che stiamo facendo anche ad esempio le battaglie che stiamo facendo se mi permetti è anche quello per avere un adeguato compenso e condizioni di lavoro spesso giuste e buone noi tante volte non ci viene riconosciuto quando lavoriamo in notturna quando lavoriamo in festivo perché ad esempio le televisioni fanno spesso delle gare da palto a ribasso e di conseguenza tanti dei nostri diritti vengono meno e quindi ci auguriamo che le migliorie che stanno facendo adesso come ad esempio le varie conferenze stampa che vengono fatte attraverso la piattaforma Zoom e di conseguenza tante persone che possono connettersi magari un domani si faranno delle conferenze differentemente però noi avremo le condizioni di lavoro migliori Ecco una delle tante battaglie anche prima appunto del coronavirus erano le esternalizzazioni per quanto riguarda le battaglie del sindacato ASA perché sappiamo bene come per tagliare i costi molte televisioni molti emittenti stanno cercando di esternalizzare i propri lavoratori continueranno queste battaglie? Le battaglie non si fermeranno continueranno e vedremo di fare anche azioni un pochino più concrete dovete calcolare anche che quando ci sono delle esternalizzazioni di conseguenza quando le emittenti pubbliche e private decidono di fare una gara a ribasso di conseguenza alla fin fine chi ne paga le conseguenze siamo noi che siamo in mezzo alla strada ci può essere il sole ci può essere il vento può far freddo può piovere insomma alla fin fine siamo noi a stare in mezzo alla strada e siamo noi che paghiamo questo ribasso noi già abbiamo fatto uno sciopero qualche mese fa e sicuramente altre azioni più concrete stiamo facendo proporremo anche nei tavoli istituzionali perché non si può pensare che un elemento parlo con un po' di presunzione però importanti come noi perché la televisione se non ci sono le immagini non ha motivo di essere televisione come la radio se se ne andasse il fonico non avrebbe motivo di essercene la RAI e di certo non si può risparmiare soltanto su noi non si può pensare che noi dobbiamo stare in giro e poi ecco magari ci viene chiesto non so di avere determinate attrezzature tecniche che sono costose ci viene chiesto delle volte di saltare la pausa pranzo ci viene chiesto di fare dei turni che possono essere anche di 14-16 ore e poi ci viene chiesto di abbassare chinare il capo e di essere pagati poco questo certamente l'ASA non può permettere sappiamo bene poi lo stiamo dicendo ormai da settimane che questa emergenza sanitaria è anche purtroppo sta diventando anche un'emergenza economica siete preoccupati anche perché molti operatori video sono partiti IVA Sì siamo preoccupati di questo prima di tutto perché molti operatori sono partiti IVA e di conseguenza in questo momento sono a casa e siamo preoccupati soprattutto perché appunto non lavorando adesso indubbiamente non si sa come andranno avanti e come potranno non so provvedere al fare la spesa al pagare una bolletta al pagare le tasse perché poi le partite IVA pagano anche le tasse questo è da ricordare ma anche ecco il bando di gara che è stato fatto ultimamente dalla televisione nazionale che appunto ha affidato a una società la gestione delle truppe ING ha obbligato diciamo obbligato usiamo questo termine delle persone a stare a casa perché praticamente si sono ritrovate senza lavoro l'ASA ha tentato in qualche modo di collocare differentemente queste persone di trovarle un posto di lavoro certo è che però la gara a ribasso vuol dire molto spesso disoccupazione licenziamento e impossibilità economica di far fronte ai beni primari e ricordiamo anche a pagare le tasse perché poi noi siamo operatori ma non siamo evasori ecco nel Cura Italia la soluzione quella trovata dal governo sono stati 600 euro una tantum immagino come l'avete presa? l'abbiamo presa veramente male perché dovete calcolare che una videocamera con cui noi lavoriamo può costare anche 20-30 mila euro e certo non è che le persone hanno 20-30 mila euro in tasca e di conseguenza magari devono aver fatto dei finanziamenti stando a casa senza lavorare 600 euro che poi attenzione ci sono due correnti di pensiero per adesso ancora non si è capito se sono soldi che fisicamente arriveranno o se sono uno sgravio sulle tasse nel 2021 quindi già questo è stare in un limbo in più 600 euro una tantum significa dover magari non pagare una rata di un'attrezzatura insomma la situazione non sarebbe delle migliori ecco quindi voi cosa chiedete innanzitutto alle emittenti televisive ma ancora di più poi al governo guarda la cosa è molto semplice io sono 25 anni che faccio questo lavoro e 25 anni quando io ho cominciato gli operatori veramente bravi erano pochi e non esistavano operatori che andavano a lavorare per pochissimi soldi chi chi aveva la telecamera sulla spalla era bravo sapeva fare il lavoro fatto bene parlo di vecchia scuola e soprattutto era pagato ecco quello che vogliamo noi dell'ASA è che si torni un pochino alla vecchia scuola non può esserci il ragazzetto uscito dalla scuola di ripresa che non ha esperienza e perché l'esperienza vedi non è soltanto premere il tasso della telecamera ma è anche sapere quando va premuto quando lo devi spegnere insomma una persona che non ha esperienza non può rubare il lavoro depreciandosi l'operatore invece che sa portare il lavoro a casa e soprattutto pretende il giusto compenso quindi quello che vorremmo noi è che gli emittenti non badassero solamente al compenso che comunque sia importante ma badassero soprattutto alla professionalità ecco questa è una parola che noi chiediamo tanto la professionalità e soprattutto a pagare il giusto un operatore che sa tutto il giorno in mezzo alla strada ecco la professionalità voi la dimostrate ogni giorno appunto come dicevamo all'inizio della puntata rischiando ogni giorno la vostra salute per portare nelle case degli italiani le immagini le informazioni che tutti in questi giorni ricercano vogliamo concludere con un appello più che un appello diciamo delle parole che lei si sente di dire a tutti gli audiovisivi a chi magari non è del sindacato e si trova sotto scappo di qualche ricatto comunque sottopagato per il proprio lavoro quello che mi sento di dire io come ASA ma anche come cameraman professionista è venuto il momento che ci ricordiamo che noi abbiamo una professione che è quasi una vocazione perché nessuno ci impone di stare in mezzo alla strada con la telecamera è una nostra libera scelta noi sposiamo la strada e indubbiamente sposando la strada e la telecamera è giusto che impariamo lo stile della telecamera di conseguenza la professionalità quello che io invito soprattutto i ragazzi giovani le giovani leve che si fanno allettare dal vedere le proprie immagini in televisione e accettare di andare a lavorare anche per 50 euro al giorno che è una cosa inammissibile quello che io li invito magari è a mettersi in contatto con noi dell'ASA sia tramite i canali social che attraverso il sito internet e magari contattarci parlare confrontarsi e soprattutto non abbassare più la testa quando ci vengono proposti dei lavori che ci possono uccidere dal punto di vista fisico che ci possono mettere a rischio della vita e fare questi lavori a pochi soldi facendo il discorso del tipo è meglio che quei pochi soldi li prendo io piuttosto che li prendo un altro insomma torniamo a essere cameraman professionisti ecco questo è molto importante non giocare a ribasso non giocare anche con le aspettative dei tantissimi ragazzi di chi esce dalle scuole e vorrebbe riuscire a trovare il proprio spazio nel mondo del lavoro ultimissima domanda noi abbiamo visto mentre chiacchieravamo le immagini di voi che vi bardate così no vi mettete mascherine guanti l'avete dovuto comprare voi vi è stato dato avete tutti i dispositivi di sicurezza individuali allora alcuni di noi hanno dovuto provvedere personalmente altri li sono stati fornite dall'azienda ci sono aziende che hanno diramato fin da subito dei protocolli di sicurezza qualcuno un po' più colorito qualcuno un po' più formale però alla fin fine tutti quanti siamo bardati e siamo messi in sicurezza cioè abbiamo le mascherine abbiamo i guanti poi bisogna dire la verità che sulla salute non si scherza di conseguenza che l'abbiamo dovuti comprare noi o ce le hanno date le aziende poco importa l'importante è che siamo protetti però ripeto alcune aziende la maggior parte delle aziende hanno provveduto direttamente anche qualcuna per certo facendo dei salti mortali a procurare mascherine e guanti o spray disinfettante da darci in dotazione ecco e questo è molto importante anche perché speriamo che Paolo Micai sia l'ultima vittima del coronavirus tra i professionisti dell'informazione gli audiovisivi che ricordiamo ogni giorno lavorano per portarci le immagini di cosa sta succedendo in Italia dentro le nostre case grazie di essere stato con noi Gunther Pariboni portavoce dell'ASA sindacato autonomo audiovisivi grazie ancora grazie si conclude qui la nostra appuntata il nostro appuntamento abituale con res pubblica ma rimanete con noi continuate a seguirci sul canale 264 delle digitali terrestre ma anche dalle nostre app ufficiali per smartphone sia iphone che android se vi siete persi qualche nostro appuntamento potete ritrovarlo sul nostro canale youtube radio cusano tv italia grazie di averci seguito e alla prossima puntata a Grazie a tutti. Grazie a tutti.